Il nostro programma quest'anno prevede il giovedì sera, come è storico ormai, l'esibizione della parte delle patinatrici del gruppo della poliposportiva San Giovanni che le nostre ragazze ci aglieteranno con un'esibizione serale a partire dalle 21.30. Il venerdì sera la serata è agliettata da una serata karaoke gestita totalmente dai ragazzi della nostra comunità. Il sabato sera c'è il gruppo Terzo Tempo che farà musica pop, è un gruppo qua della zona limitrofa delle golosine e li abbiamo sentiti, sono molto bravi quindi vi aspettiamo numerosi anche il sabato. La domenica è la serata clou, perché la serata è agliettata dalla musica dei Petos, un gruppo storico veronese che canta le canzoni dei Beatles in dialetto veronese. Per concludere il lunedì faremo una serata a piano bar che è gestita da un nostro ragazzo che fa parte della nostra parrocchia che è una sorpresa. Vi aspettiamo numerosi alla Sagra del Buon Pastore dal 5 al 9 settembre, tutte le sere, dalle 19 fino a quando si avvolga. Sono Adriano Apostoli dell'Associazione Missionaria Punto Malawi. Se venite alla Sagra del Buon Pastore fate una visita anche alla mostra missionaria. Proverete cose particolari dell'artigianato africano, ma più interessante sarà l'occasione di conoscere le nostre iniziative per le missioni alle quali siamo particolarmente legati. Vedi il dispensario maternità in Malawi, vedi i materassi per una scuola a Betlemme in Uganda. In particolare seguiamo le missioni coordinate dalla nostra parrocchiana Giovanna Tosi, suora canossiana, responsabile delle missioni canossiane dei vari paesi Malawi, Tanzania, Sudan, Uganda, Kenya ed Egitto. Ci si può immaginare di quanto aiuto avrebbe bisogno sua Giovanna e con le sue richieste dà anche a noi e a voi la possibilità di essere missionari a distanza. Grazie a tutti.